Eccoci, siamo con Alessandro, Gabini, ciao Vale. Ciao Gianfranco. Fine partita, un bel 3 a 0, una gran bella partita. Oggi abbiamo visto che sei tornato un po' alle origini del tuo gol di difensore centrale e ti facciamo i complimenti perché abbiamo visto fare una gran bella partita. Grazie, sì, io effettivamente sarei centrale ma mi ha dato e con quello che faccio anche il terzino. Sono contento sia della prestazione ma soprattutto per la vittoria della squadra che ci serviva, ci dà morale, ci dà quella spinta che ci serve alla fine del campionato per raggiungere il nostro obiettivo. Sappiamo che sei Reduce dalla bella esperienza con la rappresentativa al Torneo delle Regioni. Alessandro, dici un po' come l'hai vissuta tu questa esperienza. Sì, è bellissima esperienza e nulla da dire, il torneo entusiasmante, compagni fantastici, gruppo eccezionale. Peccato non essere andati avanti fino alla fine ma purtroppo è venuto a renderci ai quarti di finale ma per carità bellissima esperienza da rifare se si ha la possibilità ovviamente. Sì, diciamo che la tua età magari ti permetterà anche l'anno prossimo magari di rifarla questa esperienza. Sì, sarei contentissimo perché mi sono trovato veramente bene e bellissima appunto, ripeto, esperienza. Per il momento, adesso con questa vittoria, le prossime tre partite dobbiamo pensare uno sprint finale per raggiungere i piedi off? Per forza, ce la metteremo tutta, dal primo all'ultimo, dobbiamo lottare come abbiamo sempre fatto, impegnarci al massimo e siamo forti e ce la facciamo, se ci impegniamo tutti quanti. Ok, Ale, grazie per il tuo tempo e in buca al Lupo per domani. Grazie, Lupo, grazie, ciao Gianfranco. Grazie.